Nasce da un'idea del prefetto di Gorizia Massimo Marchesiello la sinergia istituzionale fra amministrazioni dei ministeri dell'interno e della salute. La pandemia sta mettendo a dura prova il personale dell'azienda sanitaria Asugi, ma da oggi 12 persone in organico prefettizio al palazzo del governo potranno lavorare a supporto del trattamento dati, su contagi, quarantene, ricoveri, terapie, guarigioni e tutto ciò che attiene al quadro epidemiologico. Abbiamo toccato con mano il problema del covid qui in prefettura, abbiamo avuto molti colleghi positivi. È importante raccordarsi con l'Asugi perché abbiamo colto anche le loro difficoltà. L'aggiornamento dei dati in tempo reale è funzionale per i controlli di polizia. Se una persona è positiva, ovviamente deve rimanere in casa. È un servizio al cittadino che noi siamo partiti per primi, ma sicuramente sarebbe utile che partissero anche altre amministrazioni perché in questo momento è prioritario e assoluto questo problema. È una collaborazione nata lavorando assieme. Fin dall'inizio c'è stato un aiuto reciproco che adesso si concretizza con un aiuto proprio formale per far fronte a questo carico di lavoro che nessuno avrebbe mai previsto. Cosa analoga che è già successa con la direzione di Fincantieri e sono quindi due bei esempi di come in un momento di difficoltà ci si possa dare reciprocamente una mano.